Vi presento Ambrose di Fabio Carta, io lo leggo in francese, ma di francese c'è poco. Di fatto questo è un romanzo veramente, veramente particolare, distopico. Distopico è un termine che ho di recente avuto tra le mie corde. Fantascientifico originale, perché mi sono presa qualche appunto, e parliamo un po' di Fabio Carta, che è qui. Fabio Carta, classe 1975, è appassionato di fantascienze e dei classici della letteratura. L'ha errato in scienze politiche, come me, con indirizzo storico, il mio no, ha al suo attivo la saga fantascientifica Arma Infero, una serie che oggi conta due romanzi, Il Mastro di Forgia 2015 e I Cieli di Moareb 2016, e il racconto lungo Megalomachia. Scritto unitamente alla finalista del premio Urania 2016, Emanuela Valentini, ha inoltre partecipato con importanti firme della fantascienza italiana all'iniziativa benefica Penny Steampunk, da cui è nato un volume di racconti fantastico World a cura di Roberto Cera. Allora, che cosa vi posso dire di questo romanzo? Che cosa vi posso dire di questo romanzo? È pazzesco, è pazzesco. Racconta la storia di un uomo che si ritrova all'interno di un'armatura, e all'interno di questa armatura, nella sua mente, troverà altri personaggi. L'armatura è guidata da personaggi VIP o pseudo VIP, quindi a un certo punto sembrerà di essere in un reality. È particolare, davvero particolare, e non vedo l'ora che voi possiate ascoltarlo, ma, come dicevo, ho voluto assolutamente leggere un po' meno perché ero terrorizzata dallo spoiler, perché è un romanzo che va letto da pagina 1 alla fine, come gli altri, d'accordo? Ma con estrema attenzione. Quarta di copertina, che vi aiuto. Controllore ausiliario CA è uno dei pionieri ad aver sposato la causa della missione Nexus, la frontiera virtuale dove scrivere un nuovo e pacifico capitolo della storia umana. Ma durante la preparazione terapeutica, il suo corpo rimane vittima di danni irreparabili. Logorato dalle metastasi, è costretto a vivere in una speciale tuta eterodiretta da pazzi esaltati che combattono una guerra in bilico tra realtà e spettacolo. Il suo destino è la morte, mentre un suo gemello elettronico continuerà a simulare la sua esistenza nel ciberspazio. L'infelicità di CA, controllore ausiliario che d'ora in avanti chiamerò CA, figlio delle stelle e alieno agli usi terrestri, subisce uno stravolgimento con la comparsa di Ambrose, un'entità che si presenta come una rosa stillante ambra, una irreverente voce che lo guida verso sviluppi imprevedibili. Come ribellarsi a proprio destino e scoprire cosa si cela realmente dietro i grandi cambiamenti ai quali l'umanità dovrà far fronte. Tre tonnellate di acciaio, nanocarbonio e policeramica, non molte per un mezzo corazzato, ma bastanti a vestire un singolo uomo per la battaglia. Sotto la corazza, grigi muscoli inerti bramano la vita, vogliono che in loro fluisca l'emolinfa che li renderà potenti, invincibili. E la vita arriva sia nella scarica elettrica dell'impulso d'avvio che nella più modesta forma biologica. L'uomo, la carne, la polpa nel buscio. Tre tonnellate di acciaio, nanocarbonio e policeramica, impossibili da muovere senza l'ausilio di montacarichi o attuatori. Un gigante per gli uomini che deve proteggere, un mostro per quelli che deve uccidere. Eppure, null'altro che una pagliuzza nella vastità del fronte, figuriamoci nelle correnti inflazionistiche tra le dimensioni del multiverso, là dove compare l'ombra della sua potente complessione muscolare, la singolarità oscillante del suo generatore, già un secondo dopo essere stata implementata. Il caso vuole che proprio contro questa minuscola pagliuzza di nera energia nelle trame dei suoi muscoli, resti impigliato qualcosa, qualcuno, e là rimane. Valore aggiunto e ora potenza immanente alla struttura attende il momento per manifestarsi. Tre tonnellate di acciaio, nanocarbonio e policeramica, cariche di cannoni, missili, proiettori di energia letale, una massa a cui nulla manca per la battaglia, armi così sofisticate, precise e pericolose, che a controllarle non può essere l'uomo. Ma chi dall'uomo è stato creato per proteggerlo da se stesso, uccidendo altresì i suoi simili. L'esotuta ora è pronta, avanza tra le trincee sotto un cielo solcato da traccianti e scie di condensa, dove missili esplodono a mezz'aria investiti da invisibili muri di microonde, dove lampi di luce coerente bruciano il metallo e la roccia. Giunge alla sua buca e vi si cala, attendendo immobile l'arrivo del nemico, o della morte. Tra le siepi di Gardegne e tutto intorno al praticello, rigido come un cicisbeo in trepida attesa della sua amante, l'uomo se ne stava seduto in camporella. Di tempo da aspettare ancora ce n'era, lo sapeva bene, eppure negli ultimi minuti non era proprio riuscito a distogliere lo sguardo impaziente dall'abbozzo del mirroring, ovvero dall'ombra proteiforme multicolore, ancora solo vagamente antropomorfa, che stava lentamente delineandosi accanto a lui. Sfuggire a quel tormento, ecco l'imperativo, via da quell'impasse soffocante in cui la percezione del tempo malignamente si allungava a dismisura. L'uomo ci provò, imponendosi la calma, respirando profondamente e chiudendo gli occhi, ma poi, improvvisamente riavutosi ancora più irritato dall'insensato e fallimentare mimesi del train autogeno, si era deciso ad alzarsi e a fare una camminata. Al suo passaggio le siepie, arpeggiando angeliche, si erano scostate con grazia, mentre le sue dita, sfiorando inavvertitamente i fiori, evocavano tralucenti icone, note e collegamenti che subito svanivano. I piedi scalzi avevano delicatamente scandito quel suo vagare, soffici passi tra verzure umide e fragranti, e candidi fiocchi di poline, mentre sotto il cielo splendente si disegnava passo dopo passo la pianura. La perdita d'occhio, l'orizzonte rigoglioso, splendente, irraggiungibile, di un paradiso bucolico in altissima definizione. E adesso vi leggo un dialogo che io ho trovato meraviglioso e che peraltro mi sono fatta suggerire dall'autore. Il dialogo è tra C.A. e Ambrose. Andiamo a scoprire Ambrose o Ambrose. «Cosa sei, Ambrose?» gli aveva chiesto. «Non provare a cambiare discorso, tu devi allontanarti per un po' da questo prato. Ma cosa credi che troverò là fuori nella realtà, dietro gli occhi degli uomini, quelli veri che tu hai tanto in considerazione? Dimmelo, Ambrose!» «Non lo so, ma c'è solo un modo per scoprirlo. Te lo dico io. Troverò solo stupidità oppure dolore. Saggio, controllore, ausiliario. Sei più cose tu dell'umanità, certo, di me che sono solo un'allucinazione. Sei veramente solo questo? Ma no, ma no. Io sono l'eterio latore di un messaggio, araldo di un vago destino. Io sono qui per postrare a te e a tutti la possibilità di una nuova via, per distoglierli dalla guerra, farvi alzare lo sguardo verso le stelle, verso la pace. «Mi stai prendendo in giro?» «Chissà, ma verità o menzogna che sia, è la cosa che più desideri al mondo. O sbaglio?» «Io sto morendo, Ambrose. Sto morendo!» «Tutti gli uomini stanno morendo in questo preciso istante. Sto morendo e non so desiderare qualcosa da fare prima che ciò avvenga!» «Allora è bene che tu vada a cercare qualcosa che ancora non hai visto.» «Ma dove?» «Nel mondo reale.» «Nella base.» «In città.» «In città!» «Ma è pericoloso!» «Ma che vuoi? Non hai detto che stai per morire?» «In un modo o nell'altro.» «Giusto.» «Lo so.» «Va bene, andiamo, Ambrose.» «No, tu vai. Io là fuori non posso seguirti.» «Perché?» «Pensi veramente che io sia sempre appiccicato a te?» «Che viva nella tua testa?» «Ma pensi veramente che io sia solo un'allucinazione?» «L'afflato del tuo tumore parlante?» «Ma dai!» «Ora va, scemo! Ne riparliamo magari quando torni!» «E divertiti.» «Divertirmi?» «Certo!» «Oppure muori nel tentativo.» «Divertirsi?» «O morire?» «È bellissimo!» «È bellissimo!» «È bellissimo!» «È un certo punto ti ritrovi...» «È come se tu ti ritrovasse all'interno di un reality.» «È veramente...» «È veramente notevole!» «È veramente un romanzo notevole!» «Io mi sono letta un po' di recensioni.» «Devo dire che sono tutti solidali nel parlare dell'originalità.» «Io quando ho scritto a Fabio gli ho chiesto se era pazzo.» «È bello!» «È bello!»